Savini Tartufi, il tartufo per tutti! Qui a TuttoFood presentiamo un po' di novità come il solito per Savini Tartufi ma soprattutto un po' una rivoluzione in quello che è il mondo del pack del tartufo quindi un po' anche giocando sulla ricorrenza del sbarco sulla luna Savini è pronto ad andarci sulla luna quindi abbiamo creato questo nuovo pack sono quattro dosette dove ci piace un po' giocare, divertirci con il tartufo e in questa piccola rosa di referenze che vanno dall'olio al sale, al balsamico e al miele al tartufo andare a creare anche una degustazione giocosa già dosata appunto con questo profumo di tartufo